Allora oggi, il 30 novembre 2021, inizia la nostra mini-tournée tiziana, poi in realtà è di una sola serata dove andremo a suonare invitati dell'Istituto della Cultura Italiana del Cairo e speriamo che vada tutto bene e speriamo di fare un video-racconto bravissimo. Ciao a tutti intanto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.